Sì, sì, siamo molto soddisfatti proprio per quello, perché abbiamo fatto quello che c'eravamo preparati e l'abbiamo fatto molto bene e quindi andiamo in hotel soddisfatti. Ti ha scritto Varella, hai scritto Varella, non siete sentiti in questi giorni? No, ma di solito ci si sente per le parite un po' più importanti, quindi speriamo di sentirci più avanti. Per il derby? Eh, anche perché il derby è una data sempre contemporanea con la finale europea, quindi vediamo se andrà tutto bene e potrebbe essere una bella giornata.